E' che quando mangiano quelle che ci piacciono noi Claudio si sente eh hai visto? O se no ti tirano il cane in acqua? Grazie quello lì Claudio è il boss delle carte Salutate Claudio il boss delle carte è già il secondo video che facciamo con Claudio Grazie per la visione! Cos'è una bella carpa? Sì! Poi è anche bella guarda che roba! L'ho preso da fuori però! Dici? Sì si l'ho preso da fuori! L'ho preso dalla coda! Ah ecco è passamente passata! Stai facendo tutto qui? Sì si! Occhio che ti va a finire là in mezzo! E' quello che ho messo dalla bava grossa! Poi che impidi le mie bestie così! Di fiume! Questa qui si è attaccata da fuori! Per l'altro si è attaccata da fuori! Sul fondo come fa a attaccarsi da fuori? Ah no ce l'ha in bocca con l'altro che da fuori! E' mocca Claudio! Che alla fine io sapevo che mi devi la paga in cavallo per cui ho detto siano sicuri di portarcelo dietro! Il boss è bella! Ah è bella è bella è bella è bella! Vox è bella! Guarda che colore è! Guarda per venire qua! Guarda cosa c'è? Ah! Un missile! Guarda te la tira sulla viva! Guarda che bocca! Eeeh! Ehi sta facendo la doppia guarda! Chiara! Beh non ce l'ha bella! E' mocca Claudio! Sta ferma! Vuoi guarda che vitalità che ha? Non ce l'ha bella! Faccio la foto? Guarda che faccio la foto! Aspetta che ti faccio la foto! Ehi! Guarda che vedrà! Guarda che vitalità che ha! Ehi! Ehi! Faccio la foto! Aspetta che ti faccio la foto! Foto camera! Aspetta aspetta! Foto! Ritratto! E vai! Ehi! Ehi! se lo fanno in casa se lo fanno via io è un po' ma c'è bucchia 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 Grazie.